Ciao a tutti, qui è Pokeshani che vi parla e sempre con i suoi codici, questo è un codice di esploratori delle tenebre Allora, oggi vi porto il mio primo TCBM Ovviamente ho coperto gli indirizzi per una questione di privacy, l'indirizzo Il mio primo TCBM è stato fatto con l'utente Joe Gecko Forever Che ringrazio per questo scambio E' stato uno scambio un po' arduo, nel senso un po' combattuto, ma alla fine abbiamo trovato l'accordo Allora, mi è arrivato oggi, 11 gennaio E lo apro in diretto ovviamente Perché sono appena tornata a casa, quindi ho appena visto la busta che era arrivata Allora, vediamo cosa ci invia Bene, qui c'è l'indirizzo, ok Qui abbiamo un fogliettino Non so se si legge Allora, ciao Pokeshani Ti ringrazio di questo utilissimo scambio Spero di farne altri con te Forza Juve, lol Ciao da Joe Gecko Forever Mi piace tutto E mi piace anche lo scambio che abbiamo fatto Ma questo Forza Juve Non mi torna molto Poi ti farò sapere che squadra tifo Allora, comunque sono molto contento di questo scambio Allora, qui mi ha mandato un pacchetto di battaglie triunfali già aperto Alla perfezione, quindi anche lui è un manioco come me dei pacchetti, penso E mi ha inserito delle carte extra Ok, che vi mostro E sono Guido Mac Fibas Maciochi Natu E Ralts Adesso però andiamo alle carte che mi Diciamo, mi sono più a cuore O più a cuore E me le ha inviate in questa foderina E' figa E le carte sono Ve le mostro subito Allora, la prima E' Altaria Ix Ex di Isola dei Draghi Che E' in perfette condizioni E poi abbiamo Lanturn Prime Di Forze Scatenate Anche questa E' in ottime condizioni Allora Sono molto contento di questo mio primo TCBM E' caro Giogeco Forever Domani Ti spedirò immediatamente Le mie carte per lo scambio Con questo vi saluto E vi ringrazio sempre Per la visione dei miei video Mettete mi piace Iscrivetevi E' anzi Anzi Prima di salutarvi Dimenticavo di dirvi una cosa Penso che sono il primo Youtuber Per lo meno Per quanto riguarda i Pokemon Che propone questa cosa Allora io Sono iscritto da poco tempo Dall'8 dicembre Del 2012 Quindi è più o meno un mese Che sono iscritto quindi da poco E' ovviamente Ho ancora pochi iscritti Propongo Di fare una raffle Quando arriverò a 200 iscritti Se ci arriverò ovviamente Però io non Regalo carte Codici Anche perchè codici ne regalo Anche abbastanza Durante le mie aperture normali Ma Quando arriverò a 200 iscritti Farò come dicevo La raffle E Chi vincerà Vincerà a scelta Ovviamente Comprato da me Un box Si avete sentito bene Io farò una raffle A 200 iscritti E chi sarà il vincitore Vincerà un box A scelta Nuovo Che io Comprerò Direttamente da Cargain Club E spedirò Al vincitore Quindi Speriamo Per voi Che parteciperete E che siete iscritti Al mio canale Di arrivare a 200 iscritti Con questo vi saluto E ci sentiamo Alla prossima Ciao